A San Zeno di Montagna perché ha un ospite davvero speciale, il nostro Luca Fioravanti. Sì, eccoci qua, intanto di nuovo buongiorno da San Zeno, sono con Stefano Sorrentino, portiere del Chievo, con lui parliamo soprattutto di mercato ma non solo, anche di nazionale. Intanto mercato perché per settimane Stefano si è parlato di Torbentone, Sorrentino, telenovela, eri accostato a tante squadre e poi alla fine al Genoa, invece sei qui a San Zeno, sei il portiere del Chievo. Sì, hai detto bene tu, durante l'estate il mio nome è stato accostato a diverse squadre, però poi dopo la fine la società ha deciso di non cedermi e quindi ora riniziamo questa nuova avventura più carichi che mai. Cioè il Torbentone mi dici è chiuso oppure si potrebbe riaprire visto che il mercato è ancora lungo? No, 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 il Torbentone è chiuso, ecco, anche avendo delle offerte all'estero, però sinceramente io penso che il campionato italiano sia il campionato più bello, quello più difficile, poi dopo avendo quasi tre figli è ora di piantare le radici qua in Italia e di pensare solamente al campionato italiano, in questo caso al Chievo Verona. Dal mercato alla nazionale perché c'è un nuovo CT, già si parla dei possibili convocati, però tra i portieri si parla poco, secondo me, di Stefano Sorrentino che arriva da due stagioni eccezionali con la maglia della Chievo. Il pensiero in Stefano c'è, il pensiero colorato d'azzurro? Sicuramente, ecco, io penso che tutti quanti i calciatori ambiscano a poter indossare la maglia azzurra. Ecco, adesso con l'arrivo di mister Prandelli si rimescolano tutte quante le carte, si ripartono tutti quanti da zero e speriamo di poter far parte di questa nuova avventura. È molto chiaro Stefano che si sta allenando in maniera anche molto seria, dura, qui a San Zeno di Montagna, cioè si è concentrato sull'obiettivo Chievo, però mi dicevi anche, alle volte quando giochi in squadre anche piccoline fai fatica a metterti in mostra e a farti vedere al grande pubblico e probabilmente anche agli osservatori della Nazionale ad entrare nel giro azzurro. Ma guarda, è solo il campo che può dire la verità. L'anno scorso siamo stati per gran parte del campionato, la seconda miglior difesa del campionato e poi dopo abbiamo chiuso al quarto posto. Ho avuto la fortuna di poter parare quattro rigori durante l'anno, sono stato l'unico portiere italiano ad averne parati così tanti. Di più non posso fare, ecco, devo solamente cercare di non far entrare la palla e poi dopo ci saranno gli addetti ai lavori che guarderanno e ci sarà chi è predisposto per poter fare determinate scelte. Io cerco di farlo sempre tutti i giorni, soprattutto quando vengo chiamato in causa la domenica e poi dopo ci sarà chi dovrà scegliere. Ecco, chiarissimo Stefano, tra l'altro piccola nota in chiusura, in tutte le amichevoli fino a questo momento il Chievo non ha ancora subito una rete e non è male questo, anche se gli avversari magari non sono di una certa caratura, però vuol dire che a livello difensivo e in porta il Chievo sta benissimo. Una domanda se possibile a Sorrentino di calciomercato, perché noi lo abbiamo raccontato, insomma lui è stato molto vicino al Genoa e allora ci interessa anche chiedere un po' come ha vissuto lui quei momenti e se è rimasta un po' di amarezza per comunque un trasferimento che sembrava concluso e poi alla fine non si è realizzato. Insomma, come ha vissuto lui quei momenti, se gli è rimasto un po' di amaro in bocca e come si riparte? Beh, sicuramente l'amarezza c'è stata, ecco, essere accostato per tanto tempo a una squadra importante e blasonata come il Genoa sicuramente è grande orgoglio. Dal momento in cui poi la cosa non è andata più in porto perché il Genoa ha preso un altro portiere, dal 12 di luglio che abbiamo riniziato con il Chievo la mente è solamente per il Chievo, ecco, quindi siamo dei professionisti. Se si ha la possibilità di andarci a migliorare io penso che sia giusto poter provare nuove esperienze e così non è stato. Va bene così, ecco, come ho già detto prima, il mio obiettivo adesso è solamente quello di potermi confermare ancora con il Chievo e di togliere le mie soddisfazioni con questa maglia. Grazie a Stefano Sorrentino e a Luca Fioramanti dal ritiro del Chievo di San Zeno.